Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 24 ottobre, sono le 14.37 e, magia, il rimbalzo è arrivato e i target sono stati mancati per forse 10 dollari, se non mi ricordo male. Poi abbiamo avuto questa candela rossa e il rimbalzo c'è stato esattamente entro il tempo massimo dato dei tre giorni con l'analisi di tre giorni fa. Ok? Metodo statistico-matematico. Adesso vi suono più facile comprendere perché statistico-matematico? Perché entro determinati range di tempo raggiungiamo certi range di prezzo. Una cosa di cui ho parlato però tempo fa e che ho visto che non fosse stata ben compresa, anche se mi sembrava fosse abbastanza chiara, è quella delle condizioni necessarie e sufficienti per l'evoluta, non per la ciclica base, ovvero il discorso relativo al tempo puro. Che cosa dicevo relativamente al tempo puro? Che il target ottimale da raggiungere per almeno avere una chiusura era questo, allora, facciamolo da qualche più semplice, da questo massimo almeno ad arrivare ai 19.709 dollari e noi siamo andati a 707, due dollari di differenza. E però, appunto, rispetto alla vecchia ciclica, io vi ho sempre parlato del tempo puro. Cosa significa tempo puro? Riguardiamolo un attimo. Significa che abbiamo avuto il tempo, teoricamente già, per la chiusura del ciclo trimestrale inverso, T più tre inverso, composto da un primo mensile inverso, un secondo mensile inverso? Innanzitutto, quant'è il tempo che dobbiamo aspettarci per il baffo che giustamente è arrivato con queste tre candele? Il tempo è un settimanale, ok? Un settimanale inverso ribassista, ovvero ribassista vuol dire che per inverso sale invece che scendere. Perché l'inverso parte da massimi, scende su minimi e torna su massimi. E quindi, per chiudere tutto un trimestrale, questo, a me, 70 barre uguale trimestrale, a me serve quanto, abbiamo detto, un settimanale inverso. Insomma, qui non c'è. Non c'è, eh? Siamo sicuri? Tempo puro. Per quanto tempo siamo stati sotto i 707? 19.707, questo massimo qua. Qua 709, ok. Allora, qua sotto, ok. Sono 181 barre da 45 minuti. Quindi, 181 barre da 45 minuti, fanno come tempo puro, tempo semplice, minuti, secondi, eccetera, un settimanale. E un settimanale di cosa è fatto? Da minimo 6 cicli giornalieri che minimo durano 24 ore. Giusto? 24 barre, non 24 ore. Mi sono distratto un secondo. Quindi, se io faccio 6 per 24, ottengo 144 barre da 45 minuti. Qua ne abbiamo 181. Qui, per l'evoluta, c'è la condizione necessaria e sufficiente per aver chiuso, che cosa? Tutto il ciclo trimestrale inverso. E se non vedessimo un massimo superiore a questo o a questo, non dovremmo spaventarci, perché oggi era l'ultimo giorno, eventualmente c'è ancora la possibilità di recuperare e fare una spike, ma con candela rossa, entro domani, come detto, giusto? Ma volevo darvi questo allarme rosso. Quando già arrivate a 10 dollari dal target dato, 10 dollari in 42esima barra del nono ciclo inverso su massimo 11, non mettete almeno un take profit per chiudere l'operazione al meglio? Perché noi l'abbiamo fatto. Il tempo c'è nemico dopo. Qui c'è tutta la possibilità per provare a salire, a trasformare questo nel decimo t-3 inverso, perché minimo durata 24, qui siamo a 19, però può farsi ancora tutta la giornata ad arrivare fino a 44 barre, ovvero fare quella spike con il massimo di domani, entro le 8.45 di domani stesso. Tempo ne ha, teoricamente. Attenzione solo che da qui può essere partito un quarto t-3, se andremo già in violazione di questo minimo a 19.262 dollari, è il rischio che si vada giù a scendere perché questo è il massimo, che già ci dà la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di tutto il trimestrale. Vedete che differenza abnorme c'è rispetto alla vecchia ciclica di Hurst? Noi abbiamo il tempo puro di cui ho parlato un miliardo di volte negli ultimi video, e quindi anche se lo facessimo partire da qua abbiamo più di 6 per 24 candele, 6 giorni per 24 candele che costituiscono un settimanale inverso, ma che fa 144 e quindi abbiamo 170, 170 barre che stanno sotto questo massimo. Ho preferito, dato che ieri stavo guardando Elvis di Buzz Lerman, davvero notevole, devo dire sempre rutilante, sempre coloratissimo, ma ci sono delle situazioni che fanno riflettere. Ieri pensavo, ma le persone che ascoltano i video, li sentono e quindi capiscono più o meno quello che dovrebbe succedere, oppure li ascoltano veramente con attenzione? Perché è tutto sempre nei video, magari accennato in certe cose. E noi, come da analisi, siamo andati a fare il nostro top sistema statistico-matematico. Nessuna opinione, come vedete, nessun'altra cosa. Questo è il bello di guadagnare con un qualche cosa che può essere compreso da chi si mette solo a studiare le regole. Ritorniamo a noi. Allora, tra l'altro vi faccio notare che, mi hanno fatto notare, che la differenza tra massimo e minimo, massimo e minimo li vedete qua, massimo e minimo di questa candela qua di domenica è stata di un dollaro. Su alcuni exchange la variazione in 45 minuti è stata di 10 dollari e basta. Esattamente quello che vi dico da tante, tante, tante settimane. Nel weekend si va in lateralizzazione, evitate di fare operazioni nel se non sapete dove si può andare. Noi siamo andati in Golden Cross grazie anche a questo bel candelone verde delle 7 e un quarto, che poi è stato seguito da altre candele rosse e verdi ma che ci hanno sparato ben su. Ricordate sempre di ragionare in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Qui era più che abbondante la condizione necessaria e sufficiente. Ricordiamo sempre che ci possono essere delle altre variabili, ce ne possono essere sempre tante, d'accordo, ma ogni tanto fate questa gentilezza, accodatevi a quella che è la centratura ufficiale. Ascoltate chi è esperienza. Prima di guidare voi stessi da soli nel trading, non è forse meglio farsi guidare da qualcuno di comprovata esperienza e che porta a risultati, fatti, non parole, non fuffaguru vari? Sceglietelo voi, la risposta la date ovviamente voi. A me interessa soltanto che capiate determinate cose e che succeda ciò che ci aspettavamo, ovvero il rimbalzo entro quei tre giorni, ok? L'analisi la conoscevate bene. Sadako ci ha aiutato. Anche Sadako è con noi, rendetevi conto. Ma a parte questo, ok, continuiamo ad andare avanti. Qui su cosa siamo? 12 giorni, teoricamente, ci darebbero persino il tempo per la partenza di un nuovo trimestrale, ma in realtà iniziamo a fare così, ok? Questo sembra tanto per adesso il secondo ciclo mensile, ok? Primo ciclo mensile, secondo ciclo mensile di questo ciclo trimestrale, il T più 3 è il trimestrale. E se abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente non soltanto per chiudere il mensile inverso ma anche un trimestrale inverso e dopo la salita, che adesso possiamo togliergli di nuovo il disegno che è stato inquietantemente corretto, no, non è inquietante, è matematico, è diverso. Il rischio è che anche se facessero ancora una spike poi si vada semplicemente giù, anzi, disegniamola meglio. Anche se facessero ancora una spike domani poi si vada giù, ok? Per la partenza di minimo un mensile inverso e sappiamo già dove probabilmente passa lo swing. Al massimo dopo un trimestrale inverso ne parte un altro. Poco da fare, anche perché qui non stiamo riuscendo a superare la media mobile a 50 periodi in maniera permanente. C'è sopra anche il livello dell'accumo, il livello inferiore, che non si riesce a superare. E quindi se non si riesce a superare vedremo se in piano piano andremo prima verso i 18.637 dollari e poi seguiremo. Un'altra cosa volevo aggiungere, ok? La squadra, il gruppo premium, vari del gruppo premium si sono messi a rivedere tutta la centratura di bitcoin, ok? Ci sono altre opzioni rispetto a quelle che vi dicevo, ok? Questo potrebbe non essere un raccordo o potrebbe essere un raccordo o potrebbe essere una chiusura di un altro annuale. Adesso proverò a rimettermi a riguardare ancora una volta tutto per sicurezza. Perché? Perché purtroppo, porca miseria, accidentaccio, qui non abbiamo avuto la violazione in partenza di un nuovo T più 5 annuale. Non c'è stata purtroppo. E quindi non abbiamo avuto la conferma perché lo swing è sempre una conferma, non un obbligo, ok? Una conferma del ciclo che stiamo tradando. Qui purtroppo non abbiamo avuto questa conferma. Abbiamo solo avuto la conferma dalla partenza di un T più 4 che effettivamente è già qui, è già sotto i nostri occhi. Il T più 4 è un semestrale. È un ciclo che, come potete leggere da qua, T più 4 semestrale. Vedete, io dico T più 4, lo potete leggere qua. È un ciclo che va in media a 128 giorni. Oggi ne abbiamo 128. È al massimo 168, ma ne può fare anche 96. Quindi c'è tutto il tempo del mondo per. Ora, attenzione, perché il tempo del mensile è finito. Da qui non abbiamo alcuna conferma da questo massimo che sia partito un nuovo mensile inverso. Perché anche qui mi hanno detto ma non può aver chiuso qui. È peccato che questa candela qua l'abbia fatta prima, non dopo, e non ha violato nessuno swing di inverso, nessuno swing di minimo da qui. Quindi a me continua a piacere la mia centratura. Oh, di nuovo, mi si è frizzato di nuovo il monitor. Forse è Sadako che è tornata. Scusami. Direi che altre cose non ci sono da raccontarsi. Vi ringrazio per il vostro tempo e come vi dicevo allarme qui per valutare eventualmente uno short ma io aspettare un attimino. Oppure vediamo come chiude il nuovo T-3 inverso che non ha potuto chiudere appunto lì perché siamo ancora a 20 barre. Vediamo come chiude e che cosa succede dopo. Siamo in Golden Cross. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida splendida giornata. Caspita, nell'immagine ormai sembro un leghista. Buona giornata a tutti.